ciao a tutti ragazzi venuti in questo nuovissimo video oggi siamo su minecraft in questo snap episode rivediamo cosa dubbia allora proviamo a creare un nuovo mondo ragazzi è bellissimo praticamente e possiamo rifaccedere aggiungere un sacco di nuovissime cose è la cosa più bella del mondo cioè rifaccedere allora carichiamo ragazzi c'è il formaggio che si può mangiare e vi dico questo poi raggiunto un sacco di cose si può trasformare nei mob casuali poi ragazzi vi faccio la cosa più bella di tutto allora prendiamo l'elitra e litre il resto sembra un po' normale ragazzi ok allora ragazzi andiamo a mettere ragazzi adesso vi faccio vedere la cosa più bella del mondo ragazzi questa qua non è una mod roba avete visto allora qua c'è il mondo credo normale più o meno parte vediamo cosa c'è qua giù no vuoto roba allora e adesso voliamo mettiamo il time deve stare di notte time set night ok e adesso ragazzi puliamo aspettate aspettate l'uomo orrore ragazzi adesso ci vorrà un bel po' di tempo ragazzi c'è il nuovo microfono se vi piace ok ragazzi guardate qua dove siamo finiti ok aspettate un minuto e guardate qua la terra adesso scendiamo guardate qua cosa c'è la luna è bella un sacco di junk sta caricando questo luna ok allora guardate qua siamo arrivati qua è molto bello perché praticamente oh no si è pagato perché ragazzi qua non c'è gravità perciò il volo dura 20 ore ok ragazzi si è pagato ok finito qua c'è la gravità e qua ci sono atterrati c'è questa scia che arrura guardate arrura è fatta di formaggio è praticamente impossibile morire ok allora mangiamo secondo me si vorrebbero fare un sacco di cose video un sacco di cose bellissime vabbè cosa è quello ok questo qua non so cosa sia vabbè allora ragazzi guardate qua questo rover ok guardatelo qua bellino eccolo qua normale eccolo qua adesso noi guardate che succede se lo andiamo ad attivare ricrea la lava guarda ricrea sto coso fate attenzione guardate si crea solo sta rana ronzo in realtà cioè che materiale è ottone rame ah vabbè sì questo qua forse un sacco di materiali questo qua ok ragazzi ci sono bugati complimenti a me mamma mia quanto un piccolo roverino ha creato tutto nel ragazzo ci sono cose normali guardate credo credo che è bene rorra vediamo è un altro roverino voglio vedere se si un trecciano due tipo cioè che succede se rute due rami che succede cosa è questo non l'avevamo visto è un shulker beh niente male ok arruro ecco ragazzi c'è sto materiale che non ho capito cosa si copper come si chiama ok arruro c'è una rosse lanterne strane arruro vediamo ragazzi sono intercciati diventare una cosa gigante un altro rover che fai tiene arruro ragazzi voglio vedere se io mi metto sopra la rover che succede cioè quando sta creando se mi bug speriamo arruro tac ragazzi dicer так rrrr rrrrr rrrrr rrr rrr che succede adesso credo che da razza si espanderà ok adesso vedi che è il bottone che servono questi bottoni sentito? ragazzi a me sarebbe bellissimo fare un parkour tipo ve lo proviamo guardate tipo un parkour che devi fare veloce che poi si rompe guardate un mio uno grazie allora guardate le mucche che c'è nel coso per l'area allora guardate vorremmo fare un parkourino così guardate guardate boh non lo so non lo so allora troppo guardate solo robert il viaggio è finito questo è il cammino quindi lo troppo wow una camina è dura vediamo se c'è mucca ma che? bottiglia della mucca splash bottle della mucca oh chi è? nuova ricetta ma non è che muore non è che muore senza l'aria c'è la lander drago no ecco bottiglia della mucca come? ender drago come si chiama bottiglia della mucca bottiglia della mucca orrore 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 oh ciao ok questo va a trasformare la melana oh meglio divento un come si chiama oh sono un endertizio la cazzo oh allora non si può mettere la cazzo persona oh ragazzi eccoci qua sono degli ender draghi ok ok allora ma rientro un drovedare o così allora si è buggato tutto eccoci qua 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 Grazie.